Il Museo della Seconda Guerra Mondiale di Felonica ha presentato il videodocumentario La Colonna della Libertà 2013, manifestazione rievocativa della avanzata delle truppe alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. La manifestazione ha dispiegato 150 mezzi militari tenuti in perfetta efficienza dagli appassionati collezionisti e 400 figuranti, uomini e donne indossanti divise militari degli eserciti alleati, ma anche mezzi e divise dell'esercito tedesco. Presentiamo oggi la prima proiezione del videodocumentario La Colonna della Libertà 2013, grazie al contributo di Fondazione Cariplo, progetto Doniminus di Stretti oltreppò a Mantovano e il primo di cinque appuntamenti che saranno successivamente a Bologna, a Scarperia, a Mantua e infine a Verona. L'imponente rievocazione è stata ripresa durante il percorso e l'abbondante materiale filmico è stato selezionato dal regista Roberto Pavani per il film documentario presentato in anteprima a Felonica nella sede del Museo a Palazzo Cavriani. Io faccio parte di un gruppo, una cooperativa, un'impresa sociale che si chiama Pantacon, nello statispecie io faccio parte di una cooperativa che si chiama Zero Beat e con l'insieme di queste specificità tecniche e produttive ci siamo messi al seguito e abbiamo prodotto un DVD che racconta i tre giorni della manifestazione. La manifestazione ha un valore storico e ripercorre i luoghi che sono stati i luoghi dell'aprile del 1945. La presentazione del videodocumentario sarà fatta anche in altre località che sono state interessate al passaggio della Colonna della Libertà. Al termine delle presentazioni sarà editato un DVD disponibile presso il Museo di Felonica.